dunque benvenute e benvenuti questa sera parliamo di un tema che dal titolo può sembrare abbastanza lontano e complesso decolonizzare l'immaginario a chi appartengono i nostri desideri e per entrare nel tema per entrare in un modo molto diretto nel tema partiamo da una storia zen una di quelle storie che sembrano scritte da tutti e da nessuno e che in realtà è la variante dell'unica storia che ci raccontiamo da sempre l'unica storia in cui c'è qualche cosa di vero in noi che possiamo chiamare il se l'essenza il centro profondo che si perde in un lungo e complesso sogno che a volte chiamiamo mondo e che deve ritrovarsi che questo sogno complesso avvenga oggi avvenga fra mille anni o si è avvenuto mille anni fa cambia molto per il tipo di percorso che questa parte deve fare ma in realtà questo è il è il fondo remoto di ogni altra storia che ci raccontiamo e questa storia molto semplice racconta questo c'è un uomo in una provincia remota del giappone che ogni notte appena si addormenta vede comparire davanti a lui un fantasma e questo fantasma sembra dotato e caratterizzato da una onniscienza profonda e inquietante perché comincia a rammentargli uno per uno tutti gli eventi tutti i pensieri tutte le cose che sono accadute durante la sua giornata tutte le cose che sono avvenute nel passato dopo aver tentato ogni forma possibile di esorcismo questo uomo spaventato e molto turbato si dirige da un maestro e questo maestro che come tutti i maestri zen possiamo immaginare lontano in un tempio disperso nella campagna gli consiglia di lasciare gli esorcismi e quando il fantasma si ripresenti davanti al suo letto di prendere il sacco del riso mettere la mano dentro e chiedere quanti chicchi la sua mano stringa l'uomo fa così torna a casa e la notte non appena il fantasma si presenta davanti a lui ricominciando a ricordargli tutto quello che lui ha fatto durante la giornata mette la mano nel sacco gli chiede quanti granè quanti chicchi di riso ci siano e il fantasma scompare ora questa storia abbiamo detto questa variante l'unica storia in fondo che noi umani ci raccontiamo quello di un sé che si è perso e che si deve ritrovare e che si è perso in qualche cosa che possiamo chiamare fantasmatico nel fantasma nella fantasticheria in un certo senso c'è anche una morale semplice che ne possiamo trarre ma non meno vera che la mente si inganna inganna se stessa crea i i suoi fantasmi e ha bisogno di tornare alla realtà e però quello che stasera cercheremo di fare è in realtà un percorso un po più tortuoso che cerca di spiegare il senso di questa storia e che ha profondamente a che fare con quello che noi stiamo vivendo in questo momento come civiltà quindi con la pandemia con questa strana e inquietante sospensione del mondo che a tutti accade e che vuole avere a che fare con il senso di questa storia quindi con il senso di questa sospensione che ci sta prendendo tutti e cercheremo di parlarne a un livello individuale ma anche ad un livello collettivo e sociale proprio perché assagioli parlava costantemente di una psicosintesi individuale che in realtà è una parte di una cellula di questo grande corpo che è la psicosintesi di un popolo di una nazione di un continente dell'umanità intera e tutto quello che accade al corpo psichico di un essere umano in realtà accade al corpo psichico di un insieme di esseri umani i meccanismi sono molto molto simili e cercheremo di toccare cinque punti che vi riassumo proprio per avere un'idea delle tappe del viaggio ve le racconto così potremo seguire il percorso la prima tappa il primo punto che cercheremo di vedere assieme è proprio questa nozione di immaginario questo immaginario che nel titolo immaginiamo debba essere decolonizzato c'è una grande differenza tra l'immaginazione e l'immaginario l'immaginazione è una facoltà umana ed è una facoltà vedremo conoscitiva che non ha nulla a che fare con la fantasticheria e che quindi ha molto poco o nulla a che fare con quel fantasma di cui parla la storia se non in un senso molto particolare vedremo che l'immaginario è il grande catalogo che ogni civiltà ogni persona ogni mondo ha per tenere insieme tutti i modelli che noi abbiamo per orientare la nostra immaginazione ai nostri desideri nel senso in cui parliamo di un immaginario degli anni settanta di un immaginario del medioevo è il grande catalogo delle nostre possibilità di vita è il grande catalogo di quello che noi possiamo desiderare all'interno del nostro tempo cercheremo di capire insieme a questo come l'immaginazione non sia semplicemente qualche cosa una facoltà che ha a che fare con la creatività e non ha soltanto a che fare neanche con la nostra vita singola cercheremo di capire una cosa che è molto semplice apparentemente anche molto lontana da noi cioè che tutto quello che noi viviamo e quello che noi chiamiamo stato quello che noi chiamiamo denaro quello che noi chiamiamo diritti umani quello che noi chiamiamo malattia quello che noi chiamiamo in un certo senso ogni singola cosa all'interno del quale noi umani viviamo è un prodotto della nostra immaginazione e detto così può sembrare molto strano forse non è vero questo tavolo su cui appoggio forse non è vera la malattia che porta via molti e che ci fa soffrire sì certamente eppure al tempo stesso nel momento in cui noi ci accordiamo di credere reali e di dare il nome di reale a certe cose stiamo vivendo dentro un'immaginazione condivisa vedremo come questi due aspetti influiscano moltissimo sui nostri desideri quindi su quello che nella vita ci muove su dove vogliamo andare nella vita e vedremo come tutto questo influenza in maniera potente il nostro modo di immaginare il futuro noi siamo in un momento in una civiltà in un tempo che ha una terribile crisi di immaginazione e desideriamo così ardentemente tornare al prima desideriamo con una forza così feroce tornare alla vita di prima del virus di prima della pandemia al nostro mondo conosciuto perché da molto molto tempo facciamo fatica ad immaginare mondi diversi e in un certo senso vedremo come questo sia a livello individuale sia a livello sociale sia necessario perché il mondo di prima non era più possibile e così come accade per esempio con un'età della vita con una stagione con gli anni 70 col medioevo con qualsiasi epoca non tornerà così com'è ma abbiamo anche la straordinaria opportunità di ripensarlo così come lo vogliamo ed è un'opportunità che possiamo cogliere ora ed è un grande atto di quello che in psicosintesi potremmo chiamare modello ideale cioè l'eliminazione di molte false immagini di noi in questo caso del mondo sociale per immaginarne e crearne una che corrisponda molto di più a quello che sentiamo vero e quello che sentiamo profondo quindi faremo un viaggio scandito da questi punti che è un viaggio al tempo stesso molto concreto ma che richiede di guardare la realtà un pelino dall'alto come se fossimo a vedere le immagini di un drone perché sappiamo che quando guardiamo la realtà dall'alto da una montagna da un drone ci appare anche a volte un po più chiara ci appare come spesso non riusciamo a vedere quando siamo immersi all'interno delle urgenze quotidiane quindi proviamo a vedere questa realtà del drone e cerchiamo di capire la prima cosa perché parliamo del mondo come una grande internazione condivisa per farlo dobbiamo chiedere aiuto alla storia la filosofia e all'antropologia in particolare mi riferisco ad un libro bellissimo di uno dei più grandi filosofi mi viene da dire ma in realtà di professione uno storico della contemporaneità che si chiama yuvala rari a rari è un professore di storia dell'università di gerusalemme e ha scritto due dei libri che sono forse più determinanti degli ultimi 30 40 anni il libro a cui faccio riferimento in particolare si chiama sapiens da uomini a dei ed è un libro col progetto poco ambizioso di ricostruire vedendola dall'alto la storia dell'umanità e a rari che ha una scrittura di una chiarezza abbacinante racconta proprio gli inizi della nostra storia e gli inizi che ci chiedono di capire perché la nostra specie sia sopravvissuta nonostante noi siamo si sia delle buffe sfigate creature che non sono dotate negli degli artigli di una tigre né della grandezza dei dinosauri né della forza fisica di uno scimpanzé nostro lontano antenato qualsiasi scimpanzé in questo momento potrebbe spezzarci in due con facilità perché è molto più forte di noi e anche i nostri cugini antichi neandertal con cui pure ci siamo forse ibridati forse scontrati e le altre specie di uomo che vivevano contemporaneamente a noi in questa lontana antichità erano probabilmente più numerose sicuramente più forti e quindi è strano che questa nostra strana specie sia riuscita a a vincerla in un certo senso e ad essere quella che la selezione ha portato naturale ha portato avanti gli antropologi e gli storici si sono però resi conto e hanno scoperto che c'è una cosa che differenzia la nostra specie da tutte le altre e non è come spesso si è creduto il linguaggio perché anche gli animali le balene i cani i gatti gli uccelli hanno un linguaggio molto complesso e molto elaborato che in parte se abbiamo imparato a decodificare ma quello che differenzia il linguaggio umano è che il linguaggio umano è in grado di parlare del futuro ed è in grado di presentificare delle cose che in realtà non ci sono mai state o non ci sono ora se ad esempio prendiamo degli scimpanze che l'ho detto si parte da molto lontano e studiamo la loro etologia il modo in cui vivono ci rendiamo conto e studiando il loro linguaggio lo abbiamo fatto che sono in grado di dire ad esempio che un leone si trova sulla riva del fiume oppure che un falco sta volando sopra di loro lo sappiamo perché con degli esperimenti che sono stati condotti con l'imitazione del suono del leone della voce del falco ci siamo resi conto che loro emettevano dei suoni per comunicare agli altri la presenza di quegli animali che sono loro predatori ma noi esseri umani all'inizio della nostra evoluzione abbiamo sviluppato qualche cosa che loro non avevano mai fatto in ancora probabilmente non sono in grado di fare cioè poter raccontare agli altri che un leone si trovava lì ieri o che un leone si racconta si trovava si troverà lì domani questo permette di cominciare a costruire delle storie e se noi abbiamo degli individui deboli tendenzialmente molto più indifesi dei loro simili ma capaci di credere in delle storie comuni significa che abbiamo degli individui che si possono organizzare e che quindi ad esempio possono cacciare in gruppo e cacciare in gruppo con dei piani e delle prospettive molto elaborate come facevano i nostri lontani antenati ad unirsi che tipo di storie si raccontavano uno dei più antichi reperti che noi troviamo al british museum è un leone scolpito nel nel lavorio un leone che ha richiesto probabilmente un anno intero di lavoro con gli strumenti primitivi al suo creatore per essere realizzato perché quell'eone era così importante probabilmente era una divinità rappresentava delle forze potenti rappresentava qualche cosa attorno a cui un gruppo di individui si riuniva ma se un gruppo di individui di questa specie così debole si può riunire attorno a una storia che racconta di una divinità da cui sono protetti e se questo gruppo di individui può raccontarsi nel buio delle caverne delle storie su come andrà la caccia su cosa hanno fatto i loro antenati su quali spiriti sono là fuori a proteggerli allora questi individui posseggono una forza che nessun altro animale ha mai avuto e la specie homo sapiens è andata avanti nella storia perché ha cominciato a raccontarsi delle storie comuni a cui tutti credevano ma date bene che questo è decisivo ed è quello che facciamo ancora ora un gruppo di scimpanzee ad esempio stringe delle alleanze in brani nei branchi ci sono delle vere e proprie alleanze politiche però per stringerle c'è bisogno che gli individui si conoscano personalmente cioè devono aver passato del tempo insieme devono essersi conosciuti da piccoli devono essersi sculciati come fanno gli scimpanzee gli esseri umani no due specie che credono nell'identica divinità due specie che condividono la stessa genealogia ideale e che credono negli stessi miti possono collaborare cacciare insieme unirsi e formare un gruppo senza aver bisogno di essersi conosciuti personalmente vedete bene che quando gli esseri umani hanno cominciato a creare delle città che credevano negli stessi dei che avevano le stesse leggi che avevano dei confini non hanno fatto altro che portare avanti questo antico modo di stare insieme raccontarsi storie in cui tutti credevano e quando hanno cominciato a creare degli stati a creare delle nazioni a creare delle alleanze sovranazionali a creare degli imperi quando hanno cominciato a raccontare delle complesse teorie che hanno chiamato filosofia o scienza non hanno fatto altro che creare dei mondi immaginari all'interno dei quali le persone si riconoscono e quali e collaborano insieme per entrare in questa prospettiva che sembra un po astratta ma è determinante faccio l'esempio di una delle cose che tutti utilizziamo quotidianamente il denaro se ci pensate il denaro è una storia che noi ci raccontiamo perché ad un certo punto abbiamo cominciato ad accettare inizialmente dei gusci di conchiglia in cambio di beni materiali perché era complicato gestire un'economia che si estendeva con il baratto ma perché mai abbiamo accettato che delle conchiglie fossero scambiate ad esempio con del cibo da mangiare perché sapevamo che gli altri avrebbero accettato in cambio quelle conchiglie così come le accettavo io e pensiamoci è così strano che da un certo momento in poi abbiamo immaginato che l'oro l'argento e delle pietre potessero essere così preziose da uccidere per loro non è così strano ogni volta che lo usiamo che delle banconote che non sono in nulla diverse dalle banconote del monopoli siano quello per cui lavoriamo quello con cui compriamo il cibo quello con cui costruiamo una casa il denaro funziona è il centro della nostra economia il centro delle nostre società perché in un certo momento abbiamo deciso che quel quel piccolo oggetto che di per sé non ha nessun valore intrinseco perché non lo posso mangiare non ci posso costruire oggetti sarebbe stato accettato da tutti gli altri cioè abbiamo creato un mondo in cui un oggetto immaginario che chiamiamo denaro diventa una storia a cui tutti credono e non è sempre stato così nel medioevo sarebbe stato inconcepibile immaginare uno stato in cui il mito collettivo religione non sarebbe stato preso non fosse preso come fondamento di realtà gli stati moderni oggi sono degli stati laici oppure ad un certo momento abbiamo iniziato a credere e a scegliere che i diritti umani che sono qualcosa che non esiste in natura fossero qualcosa di così importante che tutti dovevamo accettarli come un'immaginazione nella quale desideriamo vivere oppure abbiamo iniziato a credere che la fiat microsoft e le altre società fossero un'entità capace di un grande potere perché può assumere per possono assumere persone acquistare fabbrica avere degli immobili al loro carico ma se ci pensiamo il giorno in cui la fiat vedesse distrutti tutti i suoi stabilimenti tutte le sue auto e anche licenziati tutti i suoi dipendenti fino a quando una società per azioni di nome fiat fosse quotata in borsa la fiat esisterebbe strana creatura questa creatura che non è legata a niente di fisico eppure esiste perché questa lunga premessa per capire che ogni qualvolta un mondo entra in crisi sta entrando in crisi non il mondo ma un racconto che noi ci siamo fatti del mondo che ha determinate premesse e che ha determinate conseguenze così come ogni volta che la nostra vita personale entra in un momento di crisi dopo un divorzio dopo la perdita di un lavoro ogni volta in cui la nostra identità viene messa in discussione quello che viene a cambiare quello che si mu che muta profondamente non è la nostra la nostra identità profonda ma un certo modo una certa visione di noi e sappiamo bene che spesso dopo queste crisi ne usciamo molto mutati perché cambia la storia che stiamo raccontando su noi stessi questo ha molto a che fare col mondo che oggi stiamo vivendo perché la pandemia questa cosa che chiamiamo pandemia questo avvenimento che è successo all'improvviso ha fatto qualche cosa che era inimmaginabile fino a qualche anno fa cioè ha sospeso ha messo in sospensione un mondo che procedeva in una maniera assolutamente automatica e spedita verso il futuro se ci pensate ad un certo punto tutta una serie di cose che davamo per scontate la vicinanza fisica un certo modo di lavorare il fatto che fosse impossibile lavorare da casa e molte altre cose sono entrate in una profonda enorme crisi e molte e molte altre cose che fino a ieri non erano lontanamente nel nostro orizzonte sono entrate a far parte della nostra vita quotidiana che cosa è successo è successo che un certo modo in cui noi vedevamo il mondo un'immaginazione condivisa di come il mondo funzionasse improvvisamente ha iniziato a sfaldarsi la prima reazione quando una storia a cui abbiamo a lungo creduto anche individualmente inizia a sfaldarsi è la paura e quello che succede per esempio quando finisce un periodo professionale o finisce una storia importante un'amicizia una relazione di coppia oppure semplicemente ci accorgiamo che alcune cose che credevamo sono molto diverse da come le pensavamo in quel momento la nostra prima reazione è la paura voglio che tutto sia come era ieri perché la nostra mente che è molto conservatrice la nostra mente ha bisogno di certezza bisogno di sicurezza bisogno che il mondo sia prevedibile come prima reazione davanti all'imprevedibile desidera tornare a qualche cosa di conosciuto fosse pure qualche cosa di conosciuto che non ci piaceva affatto e in effetti la nostra immediata reazione durante la pandemia è stata voglio rivolgiamo il mondo di prima però quando siamo costretti ad uno stop forzato quando ad esempio ci troviamo in un momento di solitudine oppure dicevamo se entriamo in una crisi personale una buona domanda da farsi è ma quali erano le caratteristiche le premesse di quel mondo in cui vivevo prima se la mia vita è entrata in un momento di pausa la mia vita prima com'era mi andava davvero bene quelle premesse che sembravano assolutamente certe necessarie che cos'erano e qui entriamo nel tema dell'immaginario la parola immaginario è una parola che noi usiamo costantemente dicevo all'inizio ad esempio quando parliamo di un immaginario medievale quando parliamo di un immaginario medievale se vi dico medioevo immediatamente ci balzano in testa alcune immagini i cavalieri i castelli le chiese le cattedrali la santa inquisizione ma magari l'immaginario delle persone che vivevano nel medioevo era molto diverso e comprendeva una quantità enorme di cose che noi oggi non consideriamo oppure se pensiamo qual era l'immaginario degli anni 70 chi li ha vissuti sa che una serie di idee che riguardavano cos'è un buon lavoro cos'è bello cos'è la musica cos'è il cinema che cos'è divertimento che cos'è normale erano molto diverse da quelle di oggi se io mi metto in confronto con un quindicenne la sua idea di che cos'è un buon film è probabilmente molto diversa se io mi metto a confronto col solito quindicenne su che cosa sia ad esempio divertente probabilmente la mia idea è molto diversa o su che cosa sia un'attività un'attività sportiva ci sono proprio delle delle immagini che noi costantemente abbiamo in testa che determinano la nostra direzione nella vita ad esempio se io desidero una relazione di coppia ogni epoca ogni periodo della della storia ha un'immagine di che cosa sia una coppia se io penso all'educazione ogni famiglia ogni epoca ogni ogni cultura ogni civiltà ha un'immagine di che cosa sia l'educazione ed è molto difficile rendersi conto che questo nostro immaginario non è la realtà come se fosse qualche cosa che la natura ha creato una volta per sempre ma è il nostro modo di organizzare la vita è il nostro modo di organizzare quel qualcosa là fuori che chiamiamo reale e quello che stava succedendo già da molto tempo e di cui ora con la pandemia ci accorgiamo è che l'immaginario che noi avevamo il modo in cui noi immaginavamo tante cose della società e del mondo e di noi stessi era già da lungo tempo in crisi e in realtà da molto tempo probabilmente senza saperlo stavamo andando in direzione di un muro su cui sbattere pensiamo ad esempio la scuola che è un mondo che mi capita di conoscere pensate ad esempio ogni singola volta in cui portiamo dei bambini a scuola e immaginiamo quante quanto deve sembrare strana la scuola ad un ragazzino che oggi ha dieci anni ed è cresciuto nel mondo digitale quanti aspetti dell'educazione della scuola sono evidentemente da lungo tempo assolutamente inadeguati a rappresentare il mondo che loro vedono fuori ma per una sorta di finzione collettiva noi li portiamo avanti che cosa succedeva succedeva che gli insegnanti i ragazzi si rendevano perfettamente conto che c'era qualcosa di strano e potevano anche portare avanti una serie di idee di proposte ma ad un certo punto ci scontravamo con una serie di dati perché non cambiamo interamente il tipo di materie che insegniamo il modo di farlo la composizione delle classi eh sì però abbiamo a che fare con questi edifici ci sono tanti insegnanti nelle liste di collocamento ormai i programmi sono fatti possiamo spostare possiamo fare delle classi un po più piccole sì questo si può facciamo questo da molto tempo avevamo costretto ogni tutto quello che era pensabile a delle premesse già date per cui noi stavamo continuando a pensare il mondo sulla base di premesse che non corrispondevano più neanche neppure a quello che sentivamo oppure nel momento in cui ci siamo trovati a dover lavorare chi ha potuto da casa quanti riunioni e spostamenti inutili ci siamo resi conto che erano la sostanza quotidiana della nostra vita quante persone si saranno chieste ma davvero facevo ogni giorno un'ora e mezzo di macchina per fare una riunione di mezz'ora che avrei potuto fare seduto nel salotto di casa è una premessa che adesso ci sembra quasi ovvia ma che fino a due mesi fa apparteneva alla sfera dell'impensabile in un qualche modo in un qualche stranissimo modo avevamo ridotto tutto il futuro che immaginavamo ad una serie di premesse che già conoscevamo quindi avevamo sostanzialmente impedito all'immaginazione di pensare in maniera diversa la nostra vita e di pensare in modo diverso la nostra società il nostro mondo perché l'immaginario su cui fondavamo il mondo era un immaginario che non aveva più attualità non eravamo più contemporanei di noi stessi un altro esempio da molti anni va avanti una la lotta femminista per costruire un'immagine diversa donna che possa recuperare in sé il potere la libertà di autodeterminarsi per molti anni questa lotta è stata una lotta sociale una lotta politica ma soltanto con negli ultimi anni e con grande fatica questa immagine sta filtrando nell'immaginario collettivo attraverso film attraverso serie tv e se ne vedono gli effetti perché l'autoimmagine maschile che per molto tempo aveva potuto riposare su se stessa indisturbata improvvisamente si è trovata catapultata in un'enorme crisi perché inevitabilmente quando un immaginario si sfalda l'identità che riposavamo lì entra in crisi quindi per fare una sintesi brutale di questi due punti tutto quello che noi viviamo fuori nel mondo tutto il modo in cui noi raccontiamo che la nostra vita deve essere organizzata la società lo stato il denaro l'economia non è qualche cosa che funziona secondo delle imperturbabili leggi eterne ma è essenzialmente una storia un prodotto dell'immaginazione che noi abbiamo accettato di credere insieme da un punto di vista strutturale tra i bambini che giocano al facciamo che ero il pompiere e al manager che dice facciamo il gioco del business plan o facciamo il gioco del budget da un punto di vista strutturale non c'è nessuna differenza se non che il bambino non avrà nessuna conseguenza per centinaia e centinaia di persone attorno a lui ma come realtà ultima ogni volta che abbiamo a che fare con queste storie abbiamo a che fare con un prodotto dell'immaginazione di questa potente facoltà che noi stiamo condividendo e questo significa due cose la prima che è complicata che a stagioli conosceva molto bene e ad esempio ne parla in un in un piccolo puscolo bellissimo che si chiama la vita come gioco e rappresentazione che ogni qual volta noi siamo vivi noi non possiamo fare a meno di interpretare delle parti all'interno di un grande gioco collettivo la visione della psicosintesi che a stagioli portava avanti era proprio legata al fatto che possiamo scegliere e migliorare non solo come noi stiamo all'interno di quel gioco quindi scegliere per esempio di giocare bene delle parti invece che giocarle male o senza neppure sapere che sono delle parti che interpretiamo ma anche che possiamo in questo con questo elemento di consapevolezza indirizzare e cambiare il gioco collettivo e quindi questo è anche un un'idea molto 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 ottimista molto legata alla speranza se questo questo gioco lo abbiamo creato noi è il nostro potere cambiarlo così come il nostro potere non sempre cambiare le condizioni esteriori della nostra vita le cose accadono ma scegliere come stare dentro quella vita e come ci vogliamo stare sì è molto interessante il fatto che i nostri antenati greci che hanno dato il via un po all'aurora di come noi leggiamo il mondo per dire coscienza avevano varie parole ma ce n'erano due che in particolare loro usavano una è psuche da cui psiche che indica proprio un insieme di facoltà dei sentimenti dei pensieri di tutte le facoltà che noi oggi chiamiamo lo psichico ma un altro termine che loro avevano per indicare coscienza era sioneidolos cioè letteralmente con scienza sapere insieme quindi avevano questa idea molto radicata che non esiste una coscienza isolata che la coscienza è sempre una comunità di coscienza un sapere insieme e quindi questa questo grande gioco collettivo che chiamiamo società che chiamiamo mondo è in realtà il modo in cui noi facciamo coscienza insieme sottolineo una cosa l'idea che il mondo sia un prodotto che questo mondo comune l'economia lo stato le leggi siano un prodotto dell'immaginazione non vuol dire affatto che sono false non vuol dire affatto che sono un sono un inganno vuol dire che appartengono alla sfera della creazione poetica alla creazione teatrale alla creazione umana noi umani siamo dei creatori il grosso grosso scoglio è che una volta che abbiamo creato una storia e un immaginario finiamo per credere che quello sia dato dalla natura che sia che siano le cose così come sono tanto è vero che le scambiamo con la comune come leggi di natura e come diceva un grande filosofo isei a berlin la natura parla sempre con troppe voci perché troppi pensano che le leggi natura siano così diverse se ci pensate quello che succede nella nostra vita individuale cioè diamo per vere e crediamo molte immagini di noi e immaginiamo che quelli siano vere diciamo io sono fatto così in questa grande crisi pandemica in questo momento di sospensione del mondo possiamo iniziare a riflettere individualmente e come società a quante cose di quante cose stiamo dicendo siamo fatti così il debito pubblico certe leggi il mito della crescita costante a cui tutto il nostro mondo è assoggettato sono un siamo fatti così sono un auto immagine che crediamo vera fino alle estreme conseguenze finché come nella vita individuale non andiamo a sbattere su un muro che ci ferma e li siamo costretti a rivedere qualche cosa quindi perché decolonizzare l'immaginario perché il nostro immaginario quindi quell'insieme quel repertorio di idee interne che come società e come singoli abbiamo di che cosa è giusto di che cosa è l'economia di che cosa è il lavoro di cos'è una relazione di che cos'è il sesso di che cos'è la famiglia di che cos'è il lavoro sono profondamente colonizzate da una storia molto lunga che ha creato delle immagini che non sono più nostre contemporanee e così come in psicosintesi si cerca di andare a vedere quali sono le immagini di me che credo vere le mie su personalità i miei falsi se le mie immagini interne fuorvianti o magari anche le immagini che davvero riconosco come buone che voglio conservare così in questo momento della nostra storia è molto importante a livello individuale a livello sociale andare a vedere che cosa per noi non è più vero di quello che fino a ieri giocavamo inconsapevolmente ed è una cosa non affatto semplice è una cosa molto complicata è una cosa difficile ma è una cosa alla nostra portata e che individualmente probabilmente stiamo già facendo che cosa ha a che fare questo con il mondo del desiderio la seconda parte del titolo era che appartengono i nostri desideri qui entra in gioco un'altra funzione che l'immaginazione questa grande facoltà conoscitiva che cosa possiamo noi ogni volta che agiamo nel mondo siamo mossi da un desiderio il desiderio è un grande il desiderio come forza è una è un grande fuoco è una grande forza che ci porta fuori che ci dà una direzione che ci dà una una spinta per agire nel mondo ma questo grande fuoco interno che si in un certo senso si lega alla potenza stessa dell'energia vitale in realtà quando entra poi in azione quando va nel mondo si direziona verso degli obiettivi precisi e direzionandosi verso obiettivi precisi spesso si perde perché è come se fossimo immersi in una nube di desideri desideri che hanno dei livelli di profondità diversi per esempio ogni qualvolta vediamo delle file davanti al negozio che vende l'ultimo modello di iphone una parte di noi può chiedersi ma guarda questi strani individui come sono sciocchi che passano la notte davanti a un negozio e in effetti quel desiderio li sta muovendo tutta la pubblicità nasce per creare una massa enorme di desideri verso cui noi siamo chiamati a muoverci e in questa dispersione pulviscolare si perde anche quella quella potenza originaria del nostro desiderio che è una cosa vitale necessaria però potremmo anche chiederci qualcos'altro cioè perché quelle persone sono davanti a un negozio che vende uno strumento come l'iphone per tutta una notte oppure perché delle persone vestite in modo ridicolo che credono delle storie francamente assurde decidono un giorno di forzare il parlamento degli stati uniti e di entrare dentro vestiti da vichinghi perché la prima reazione è lo stessa vabbè sono sceme si si vuole bene così e però forse potremmo anche chiederci qualche cosa di più profondo che desiderio li sta muovendo in che storia credono queste persone perché in un mondo in cui il contatto con qualche cosa di più alto di noi di transpersonale di sacro è stato in buona parte eliso le persone che fanno la fila davanti al negozio dell'iphone sentono in un modo strano e paradossale forse che all'interno di quel prodotto all'interno di quella di quella marca all'interno di quella cosa che comprano ci sono delle idee più grandi di loro per esempio c'è l'idea di velocità di connessione di relazione l'idea di appartenere a una comunità la comunità di quelli che hanno l'iphone c'è all'interno un'idea di mondo e un'idea di mondo e qui è l'aspetto più interessante che li trascende solo che loro molto probabilmente tutto questo non lo sentono sono mossi da un desiderio che ha una radice molto più profonda e che è disperso in un pulviscolo che è reso inservibile e così per molti nostri desideri ad esempio e faccio un esempio che mi preoccupa molto come umano e preoccupa molto ad esempio gli educatori pensate che cos'è diventata e che cosa rischi di diventare la sessualità in un mondo in cui la pornografia è a un accesso pressoché illimitato succede che qualche cosa che era legata al desiderio dell'alterità della relazione del mistero qualche cosa che era profondamente legato all'immaginazione è disponibile come merce in qualsiasi momento del giorno e della notte in forme distorte ad esempio sappiamo ci sono degli studi ormai sostanzialmente a riguardo che non possono essere smentiti sappiamo bene come per esempio l'immaginario legato alla pornografia sta generando una serie di disfunzioni di difficoltà e divisione distorta della sessualità e sta eliminando l'alterità nel mondo della sessualità per questo potremmo chiederci ma i nostri desideri quelle cose che noi vogliamo ottenere nel mondo e verso cui ci muoviamo e che danno una veste concreta a quel fuoco profondo che è il nostro desiderio a chi appartengono appartengono realmente a me li ho scelti li ho voluti sono qualche cosa di cui sono consapevole e in questo momento in cui il mondo si è fermato non potremmo forse non potremmo forci forse chiederci in una maniera più profonda e più radicale cosa realmente desideriamo per il futuro dove veramente vorremmo indirizzare questa forza così vitale così potente questo fuoco così bruciante che è il desiderio vogliamo veramente colarlo nuovamente nelle stesse forme del passato vogliamo ancora tenere quel guado in cui non siamo più il mondo che eravamo e in cui ancora molto di un immaginario che ormai stava già morendo era fissato e bloccato oppure vogliamo sfruttare questo momento per creare delle nuove forme dei nuovi desideri delle nuove direzioni in cui credere ricapitolo ancora una volta questo legame di questa nostra chiacchierata insieme molto libera questo mondo in cui viviamo fuori abbiamo detto è fatto di storie in cui noi abbiamo scelto di credere e le crediamo perché sappiamo che anche gli altri le stanno credendo a volte viviamo storie diverse ed entriamo in conflitto con queste storie lo chiamiamo ad esempio scontro di civiltà ma sostanzialmente noi viviamo dentro un'immaginazione condivisa che comprende ogni aspetto della nostra vita all'interno di questo grande gioco di questa illusione illudere vuol dire proprio in ludo stare dentro un gioco all'interno di questa grande di questo grande gioco collettivo noi abbiamo dentro un insieme di immagini che possiamo chiamare immaginario a cui leghiamo la nostra idea di felicità la nostra idea di lavoro la nostra idea di famiglia di futuro di sesso la nostra idea di qualsiasi cosa riteniamo importante nella vita e da questo immaginario discendono i nostri desideri perché i nostri desideri saranno indirizzati alle immagini che noi abbiamo dentro se per esempio negli anni 70 brigitte bardo era un modello di bellezza quindi nel nostro immaginario rappresentava la bellezza probabilmente molte ragazze avranno cercato di vestirsi di acconciarsi di muoversi come lei se sean connery era il modello di bellezza maschile 007 poteva diventare nell'immaginario dei maschi dell'epoca come si deve essere per essere sexy vincenti accettati ecc oggi siamo davanti a questa occasione strana paradossale assurda dolorosa di poter vedere a rallenti il nostro immaginario improvvisamente fermo è come se fossimo stati al cinema per lungo tempo e improvvisamente ci rendessimo conto che c'è un contorno fuori è come se fossimo usciti in un certo senso dal film e possiamo iniziare a vedere questo film come era fatto e qui entra l'ultimo aspetto di questa nostra chiacchierata se effettivamente noi viviamo all'interno di immaginazioni condivise dentro di noi c'è un immaginario che abbiamo assorbito quasi col latte materno della nostra civiltà di appartenenze dalla nostra famiglia e dal nostro mondo e a quello sono legati i nostri desideri cosa possiamo fare quale potrebbe essere il nostro compito oggi beh ad esempio a livello individuale credo che sia interessante cominciare a osservare e mettere nello su bianco una lista che cresce nel tempo dei nostri desideri scrivere i nostri desideri vederli non serve come in molte pratiche che oggi si trovano molto diffuse anche nel web penso ad esempio la tecnica dei 101 desideri che ha avuto così tanto successo non serve tanto per realizzarli per quanto chiaramente se io for me do forma ad un desiderio è più probabile che nel mondo fuori veda inzi a vedere le cose che portano a realizzarlo perché sposto l'attenzione ma cominciare a scrivere i nostri desideri è un buon modo per iniziare a vedere essere onesti con noi stessi verso dove va la mia energia può darsi che in questo atto ci si accorga di avere pochi desideri cioè di non riuscire a fare una sintesi una panoramica di che cosa desideriamo è interessante chiedersi perché e a indagare oppure possiamo accorgerci che dei desideri ne abbiamo tantissimi molto diversi tra loro in conflitto questo è un buon momento per iniziare a vederli a capire quali parti dentro di noi desiderano quelle cose e forse anche a riformularle perché i nostri desideri si trasformeranno anche in scelte di vita si trasformeranno in relazioni si trasformeranno in acquisti in ultima analisi si trasformeranno in abitudini e come abitudini si trasformeranno nel nostro destino quindi è un buon momento per cercare di capire quali sono questi nostri desideri al tempo stesso oltre a vedere questi tanti frammenti dispersi può essere interessante capire qual è il nostro immaginario e tutti noi oggi abbiamo uno strumento fantastico per capirlo che sono le nostre bolle sociali su internet cos'è una bolla sociale una bolla digitale la bolla digitale è l'insieme di tutte le cose che ad esempio ci appaiono in un social network ogni volta che apro facebook ogni volta che apro instagram il l'algoritmo questo programma che è fatto per darmi costantemente le cose che io voglio vedere cercherà di nutrire la mia pagina facebook la mia pagina instagram con cose che mi interessano e imparando dalle cose che scarto tenderà sempre costantemente a darmi quello che già conosco cosa significa significa che se ad esempio sono un sostenitore della teoria di q anon come quelli che sono entrati nel congresso americano probabilmente nella mia bolla digitale appariranno soltanto gruppi teorie idee persone storie che confermeranno la mia idea del mondo e costantemente mi verranno raccontate delle storie che mi faranno vedere come io ho ragione a pensarla così ma questo vale all'opposto per noi per ognuno di noi se io ho una grande passione per i gatti facebook e instagram mi inonderanno di foto di gatti di immagini di gatti di storie che riguardano i gatti ma mi inonderanno anche di immagini che riguardano il partito politico a cui aderisco oppure che riguardano la morale l'etica le convinzioni le credenze intellettuali che io già ho quindi che cosa succede succede che le bolle digitali fa ci fanno vivere in un mondo senza contraddittorio in cui letteralmente impariamo a vivere in un immaginario fisso un ottimo esercizio di disidentificazione è quello di cercare di capire com'è la bolla digitale nella quale viviamo ad esempio sistematicamente andando a esplorare giornali riviste film di persone che credono cose totalmente diverse da quelli che io credo che per esempio ritengo inaccettabili come come vede il mondo il vichingo del capito del campidoglio americano in che storie crede come fatto il suo mondo perché noi abbiamo un problema adesso abbiamo persone che vivono letteralmente in mondi diversi e se questi mondi non si parleranno non sarà bello ma questo momento in cui una storia collettiva che ci imponeva di correre di crescere nell'economia nella crescita personale in tutto si è interrotta si è fermata bloccata da un muro improvviso possiamo veramente fare qualche esperimento per cercare di capire qual è l'immaginario dentro qui stiamo vivendo e che cosa di questo immaginario non vogliamo più perché può darsi che come molte eredità del passato non siano più attuali non siano più necessarie e possiamo singolarmente nel nostro piccolo iniziare a lavorare per scartarle questa decolonizzazione delle mie credenze inconsapevoli di tutto quello che ho assorbito senza saperlo e senza volerlo e quindi di tutto quello che ho desiderato senza volerlo e creduto senza saperlo probabilmente è un nostro importante compito storico oggi ed è un'operazione estremamente potente di psicosintesi perché perché ognuna di queste storie nell'immaginario è una parte di noi e questo atto collettivo ricorda veramente molto quel modello di evoluzione di lavoro interiore che assagioli chiama modello ideale cos'è il modello ideale il modello ideale è sostanzialmente un'auto analisi delle nostre false immagini di noi come credo di essere come come credo come credo che gli altri mi vedano come mi hanno convinto che voglio essere come voglio essere in modo compensativo perché senza vedere capire e distaccarmi senza disidentificarmi da tutte queste false immagini non potrò mai costruire un'immagine di me come voglio e posso essere in base a quello che credo che sento di essere oggi sulla base del sentimento del mio sentimento più profondo di identità e quindi paradossalmente questo momento terribile in cui sì è vero dobbiamo cercare di viverlo cercando di farci meno male possibile ma probabilmente mentre cerchiamo di non farci male o di farci male il meno possibile potremmo anche tentare tentare di immaginare cosa veramente vogliamo essere dopo singolarmente come società l'ultima cosa l'immaginazione perché l'immaginazione è quello che ci sarà necessario per fare quest'operazione individualmente quando credo crea un modello ideale mi costruisco dentro un'immagine di me possibile realizzabile di come voglio diventare ma in fondo questo è esattamente quello che la nostra società manca da decenni se ci pensiamo da quanti decenni noi non stiamo facendo altro se non pensare sul breve brevissimo periodo in quante aziende quali corpi politici stanno pensando veramente sul lungo periodo come una società vorrà essere tra 50 anni eppure l'immaginazione l'immaginazione è una facoltà conoscitiva potente perché è in grado di darci l'immagine di qualche cosa che ancora non conosco col pensiero e che è appena al di là della mia portata ad esempio ci sono dei momenti nella vita in cui noi sentiamo cosa stiamo per diventare ma non riusciamo ancora a capire col pensiero che cosa ci manca quali passaggi dobbiamo fare per diventare quella persona che già sentiamo di poter essere l'immaginazione che ci dà una forma a quell'intuizione ci permette di avere un ponte che poi il pensiero colmerà ci permette di darci una di avere una direzione un punto di arrivo la nostra società da anni ha rinunciato non solo alla pianificazione ma soprattutto ha rinunciato all'immaginazione è andata avanti con immagini di se stessa che non esistevano più ad esempio uno scarto in questo senso è avvenuto con la rivoluzione digitale quando i creatori di google andarono dal loro professore all'università dicendo noi vogliamo creare un motore di ricerca che possa indicizzare tutte le pagine che esistono su internet il professore si mise a ridere e gli disse ma figuriamoci servirebbe un'intera vita per scaricare tutte quelle pagine la loro risposta fu semplicemente noi lo stiamo già facendo perché perché loro avevano un'immagine che li guidava quello che poi sarebbe diventato google e con il pensiero hanno poi costruito i passi necessari ad arrivare a quell'immagine lì ecco in questo momento in cui tutte le molte storie che noi ci siamo raccontati per lungo tempo sono entrate in crisi e non servono più come immaginazioni condivise a tenerci insieme in un questo momento in cui il nostro immaginario passato non è più capace di guidare la fiamma del nostro desiderio verso degli obiettivi che siano aderenti alla nostra identità al nostro sé profondo probabilmente coltivare l'immaginazione decolonizzare l'immaginario capendo in quale bolla viviamo e vedere profondamente quali sono i nostri desideri per radunarli attorno forse a pochi desideri più grandi può essere la chiave per tornare finalmente a fare futuro a creare un futuro e non più semplicemente a galleggiare in attesa che qualcosa accada per chiudere con la storia che ci siamo raccontati all'inizio quando il maestro zen dice alla persona spaventata di mettere la mano nel sacco di riso e di chiedere al fantasma quanti granelli ci sono dentro in realtà gli sta esattamente dicendo di uscire fuori dal fantasma di tutte le cose che già sa perché la sua mente stava girando a vuoto quel fantasma non era altro che tutto quello che già lui sapeva di sé e del mondo e gli dice di fare l'impensabile di prendere dei grandi chicchi di riso di ancorarsi alla realtà e di pensare qualche cosa che ancora non aveva immaginato pensato di immaginare l'impensabile forse il pensiero non può pensare l'impensabile ma l'immaginazione può farlo e quindi l'invito è proprio questo proviamo a lavorare a questa decolonizzazione proviamo a capire i nostri desideri e proviamo a riattivare la nostra immaginazione perché avremo un grande bisogno di visionari per costruire il mondo nuovo e questa sfida è alla nostra portata perché questo mondo l'abbiamo creato noi e quindi possiamo cambiarlo come questa vita la stiamo vivendo noi possiamo cambiarla grazie di aver ascoltato questa lunga chiacchierata mi piacerebbe molto però se ci fossero delle osservazioni delle domande a queste note sparse che vogliono veramente essere degli spunti e non una forma articolata che racconta una verità mi piacerebbe molto pensare insieme a voi se da questi spunti si genera qualcosa come le sentite che cosa sentite relativamente all'immaginario in cui state vivendo e stiamo vivendo come vedete il mondo del desiderio com'è l'immaginazione in voi che cosa ne pensate proviamo a pensare insieme è un bel modo di fare comunità abbiamo bisogno di comunità che pensano insieme e questa è una piccola occasione per farlo posso iniziare io certo come no Anna prego sì più che una domanda vorrei capire meglio no questo fatto se appunto è l'immaginazione cioè cambiando la narrazione che noi possiamo fare ci porta al cambiamento oppure se dobbiamo prima cambiare e quindi dopo che tu sei cambiato allora poi immaginare qualcosa di diverso ecco meglio questo nodo che mi piace molto questa idea dell'immaginazione però ecco c'è qualcosa che non mi ecco se potessi chiarire ti sarei grazie provo a formulare come la penso molto spesso noi ci rendiamo conto di essere cambiati quando è già avvenuto e quindi siamo convinti di poter immaginare qualche cosa di diverso perché siamo cambiati può anche avvenire però un'altra cosa è un modo diverso di raccontarlo lo penso proprio a livello della vita individuale magari dentro di noi c'erano delle parti molto diverse una parte di noi magari era attaccata a una serie di abitudini a delle credenze ad una certa vita e una parte di noi in realtà stava già vivendo e voleva e desiderava aveva un'agenda aveva delle immagini aveva dei desideri totalmente diversi spesso quando diciamo che si che ci capita di essere cambiati quando diciamo siamo cambiati in realtà una parte di noi è diventata la parte dominante quindi è cambiato il baricentro della nostra vita e quindi identificandoci più spesso con una parte diversa riusciamo a vedere cose diverse e quindi a immaginare una vita diversa ma quello che è successo era già presente in noi ora io credo che in realtà questo discorso si possa fare in una terza via se come pensa la psicosintesi esiste dentro di noi quella che all'inizio abbiamo chiamato un se un'essenza originaria un se profondo che sa cose che la nostra personalità ancora non conosce è possibile anche che attraverso l'intuizione che non è il pensiero che ha bisogno dei passaggi per arrivare a delle conclusioni ma attraverso questo atto che è come un'antenna che ci mette in contatto con qualcosa che noi non sapevamo di sapere ma in quel momento sappiamo può anche darsi che in realtà quando immaginiamo qualcosa di nuovo è perché dentro di noi si è fatto uno spazio vuoto in cui un'intuizione è stata vestita dall'immaginazione di una forma esempio sciocco quando Einstein si chiede cosa succederebbe se cavalcassi un raggio di luce per la galassia e poi attraverso il pensiero crea la inventa scopre la relatività ristretta una parte di lui ha intuito qualcosa che non sapeva fino a un attimo prima che la sua immaginazione ha vestito di una immagine che poteva capire il raggio di luce nella tradizione nelle grandi tradizioni filosofiche l'immaginazione è una facoltà mediatrice tra il puro pensiero per esempio il triangolo e la somma è la figura che ha come somma interna degli angoli 360 gradi e questo tavolo che io dico che è triangolare tra la prima cosa che è totalmente astratta e questa cosa che è totalmente concreta c'è un mondo intermedio che è l'immaginazione per tornare alla tua domanda spesso ci si accorge che si è cambiati solo quando è già avvenuto ma in realtà possiamo anche dire che dentro di noi ci sono delle parti che già hanno un altro immaginario che già possono avere accesso all'immaginazione che può guidarle a trasformarsi si tratta di spostare il baricentro e quindi paradossalmente di avere una consapevolezza che ci fa vedere le varie forze interne nel mondo sociale un altro mondo c'è già questo strano mondo che si è fermato se si chiede a molti ventenni ma non solo a loro a molti trentenni che sono la grande generazione dimenticata che ha vissuto due mondi diversi un'idea di mondo diverso e tanti piccoli mondi diversi ci sono già e forse potrebbero essere quelli da coltivare che già esistono che l'immaginazione può guidare la produzione di nuovi racconti condivisi chiudo questa cosa con una battuta il buon niche diceva 2000 anni ancora nessun nuovo dio se come dio intendiamo quella la totalità il tutto il dio della parete nord allora è una frase senza senso ma se noi invece con nessun nuovo dio intendiamo nessun nuovo racconto che ci mette in contatto con quella potenza originaria allora quella frase ha molto senso mi verrebbe da dire così tanti secoli e ancora siamo impelagati dentro tutta una serie di teorie economiche sociali eccetera eccetera e di convinzione di cosa sia la vita umana grazie no grazie a te mi piace molto questa domanda questa tua risposta mi è piaciuta perché non è o è e e quindi capito grazie grazie a te ancora ancora io stasera ho pensato in tempo reale con voi desideravo proprio pensare in tempo reale senza una scaletta mi piacerebbe veramente tanto poter che poter pensare insieme quindi non solo domande ma anche osservazioni pensieri cose che sentite abbiamo ancora una decina di minuti per farlo era non so se mi vedete mi sentite buonasera l'idia ti sentiamo non ti vedo non so come mai attivo il video forse perché la telecamera girata verso il computer non verso di te hai ragione scusa prego allora niente bellissime le cose che hai detto che condivido tantissimo e il tuo discorso sull'immaginazione mi ricorda molto all'immaginazione attiva di Jung e quindi appunto questa capacità questo esercizio che è uno chiamiamolo un esercizio è una tecnica che tutti possiamo eh diciamo esercitare abbiamo il potere di esercitare appunto di eh in stato di veglia eh sognare attivamente in questo caso stiamo parlando di un sogno condiviso quindi di un mito la chiamiamolo mito di un mito condiviso appunto che ehm funga in qualche modo anche da scopo perché come già ehm eh tanti hanno detto eh tanti grandissimi senza un mito l'uomo non può vivere e io penso che oggi proprio il problema sia il non avere più un mito condiviso anche un dio una dea una eh cioè ehm è un è un mito ma è un mito condiviso quindi eh questo è un problema veramente eh che riguarda tutti eh però il problema è come dici tu esiste già tutto io sono in contatto eh interessante quella cosa che dicevi di Facebook e dei social di come eh guardando non mi ricordo come l'hai chiamato il nostro diciamo i messaggi che arrivano eh la bolla digitale ecco grazie eh guardando la nostra bolla digitale possiamo capire eh chi siamo no in qualche modo quella che è la nostra eh lasciami dire persona lasciami dire però io avevo una domanda per te sì eh aspetta fammela eh diciamo io sono state parlo un po' della mia esperienza ma brevemente una grande realizzatrice di eh visualizzazioni ho visualizzato anche delle cose diciamo estreme i momenti in cui erano lontane e le ho realizzate tutte fino a un certo punto in cui volevo realizzare un'ultima cosa che però avrebbe distrutto tutto quello che avrevo realizzato fino ad allora no? E lì ho capito che il giochetto eh non serviva no? Cioè quindi ehm nel senso il noi possiamo continuare all'infinito ad avere desideri all'infinito a eh realizzarli e lì è scattato una maturità dentro che mi ha portato a chiedermi ma allora qual è il mio desiderio profondo? no? Cioè la madre di tutti i desideri cos'è che io desidero con tutto il mio essere la mia intelligenza le mie cellule il mio corpo eccetera eccetera no? E allora lì quello che è successo è che eh vabbè ho cominciato a vedere le cose molto in profondità ma non sono stata più in grado di desiderare perché eh questo lo spiego in questo ti dico desiderare comunque a un certo punto per me è diventato chiaro che comunque un qualcosa di limitato perché noi riusciamo a desiderare solo cose che conosciamo in un certo modo invece secondo me un po' l'hai accennato tu questo discorso eh invece secondo me come dice anche Livia Candiani non so se la conosci bisogna porsi in uno stato di ascolto cioè più quindi quello che secondo me manca oggi è che tutti parlano tutti dicono tutti ritornano a dire sempre le stesse cose e nessuno ascolta ma non ascoltare già non si ascolta neanche con le orecchie ma proprio ehm ascoltare in quello stato di presenza in quello stato di eh quasi meditazione l'avrebbe chiamata assaggioli no? Certo. In quello stato dove io entro in profonda intimità e risonanza con quello che sei tu quella che è la tua natura e quindi le nostre due nature possono eh parlare e se noi entriamo io e te poi un'altra persona un'altra persona un'altra persona assaggioli parlava del fatto di potersi addirittura mettersi in gruppo in contatto con quello che secondo me è eh la vera creatività la vera cioè l'unico posto io non so come chiamarlo non ho il nome l'unico posto da cui può venire qualcosa di veramente nuovo e che può portarci il ben essere l'essere lo stare l'essere bene no? Quindi non il benessere cioè di avere da mangiare di avere questo l'abbiamo già provato abbiamo visto che non risolve nulla invece sto parlando di qualcosa di profondo allora grazie Litia intanto il mio gatto uno dei miei due gatti si è deciso di di movimentare la serata allora quante cose mi viene due tre cose sparse sul tuo intervento ti ringrazio parto dall'inizio sì quello che oggi manca sono dei nuovi miti condivisi perché noi dobbiamo ancora inventare i miti che ci uniranno nel prossimo futuro e lo stiamo faticosamente cercando di fare anche perché i miti vecchi come sempre hanno un'ostinata forza di resistenza sono molto difficili da scalzare quando parli di immaginazione attiva balza proprio all'occhio quella differenza rispetto a quella che è la fantasticheria ad esempio c'è una differenza molto forte tra il fantasticare che è la riverie il sognare inconsapevolmente ad occhi aperti cioè essere totalmente catturati dal fantasma direbbe la storia zen essere catturati dalla storia mentale essere catturati dal mondo posso dire essere il manager dell'azienda che è solo il manager dell'azienda oppure soltanto il carattrezzi che fa solo i carattrezzi cioè essere solo quella cosa lì e l'immaginazione e invece l'immaginazione capace di essere consapevole che è la vera immaginazione attiva l'immaginazione attiva è produttiva perché noi creiamo costantemente anche le parole che sto dicendo ora che stiamo dicendo sono qualcosa che nell'universo non c'era l'immaginazione attiva ci permette di porre davanti a noi qualche cosa che poi raggiungeremo quindi in realtà è un atto creativo interno che lentamente diventa anche esterno è come una forma su cui si deposita il ghiaccio è come la forma cava della cera è fatta dalla cera in cui si cola la statua riguardo ai desideri quello è un aspetto molto interessante perché davanti ai desideri si è il rischio di avere due tentazioni opposte che in realtà sono le due tentazioni che il buddha rifiutò la prima è quella di aderire totalmente ai desideri qualunque essi fossero quindi di essere totalmente identificati completamente asserviti ai desideri la seconda è quella di rifiutare il desiderio come malvagio come male Fitch Natan ad esempio che è un grande maestro del buddismo contemporaneo insiste molto su questa idea che la condanna al desiderio è folle perché anche l'aspirazione alla liberazione o nell'interno della nella narrazione cristiana l'aspirazione a dio al bene o alla giustizia sociale sono desideri molto più raffinati a volte con un gioco linguistico li chiamiamo aspirazioni aspirazioni invece che desideri ma in realtà è solo un desiderio molto raffinato qual è la differenza tra l'uno e l'altra via qual è il giusto mezzo quel giusto mezzo è essere presente con la consapevolezza dei desideri cioè il fatto che ogni desiderio è come la freccia scagliata da un arco io posso polverizzare il mio desiderio la forza del mio desiderio in mille direzioni diverse senza saperlo oppure posso scegliere che la forza del mio desiderio ha una direzione che non è qualcosa da fare non è un lavoro da ottenere non è un obiettivo da raggiungere non è un obiettivo è un modo una direzione di creare una direzione di evoluzione è una è qualche cosa che ha a che fare con i valori ha a che fare su come stiamo nella vita se scelgo ad esempio che il fulcro del mio del mio arco è la gentilezza la conoscenza l'amore allora tutti gli altri desideri se questo arco è tenuto nella direzione giusta diventeranno dei vettori che vanno nella stessa direzione il gioco non è eliminare i desideri il gioco è far sì di vivere consapevolmente tutti i desideri abbandonando i desideri che ci portano fuori in una direzione che non è legata alla nostra essenza profonda ma invece desiderare radicalmente la terra desiderare radicalmente la vita desiderare radicalmente un bicchiere d'acqua un bacio un viaggio perché se io lo desidero fino in fondo con consapevolezza allora tutte queste cose come vettori convergeranno verso il mio desiderio profondo che non è un obiettivo il grande il grande dramma della di molta narrazione sui desideri aver confuso l'immaginazione con la produttività e il desiderio con l'obiettivo mentre invece il desiderio una forza che va verso qualche cosa che va al di là dell'ordinario e facendolo riprende tutto insieme e mi viene da dire un'ultima battuta mi sono dilungato un po quel luogo quell'altrove c'era un modo molto bello in cui gli antichi lo chiamavano lo chiamavano così il ricor ben che è stato un grande studioso della mistica islamica lo chiamava mundus immaginalis ed era proprio quel mondo intermedio da cui ci vengono le immagini da cui vengono le intuizioni è quello che è popolato dagli archetipi da queste figure che da millenni ci raccontiamo quindi questo mondo intermedio è il mondo che non è i sensi non è il mondo delle cose concrete ma non è neanche il mondo puramente astratto dei pensieri è proprio il luogo dove il pensiero prende forma e dove le cose fisiche diventano più leggere più astratte tante piste aperte è ovviamente volevo fare una precisazione rispetto a quello che ho detto concordo con tutto quello che hai detto e sull'approccio al desiderio anzi io il desiderio la vedo come un'energia e comunque il desiderio vorrebbe la pena parlare solamente fare solamente una puntata sul desiderio il tempo il tempo si è tirando non ce la facciamo e invece quello che volevo dire cioè non è che io non desidero perché considero negativo il desiderio anzi perché penso sono arrivata alla convinzione che desiderare comunque mettere un limite cioè mi sento talmente piccola nella mia persona nelle cose con cui mi identifico nei miei condizionamenti eccetera che qualunque cosa possa io desiderare comunque piccola e magari mi limita anziché magari diciamo non lo so come vogliamo chiamarla magari la eh la coscienza la natura le leggi di natura hanno per me in serbo qualcosa di molto più grande no? Cioè noi pensiamo sempre ai desideri come piccole cose in realtà eh io non voglio accontentarmi delle piccole cose io vorrei invece un po' quello che succede quando quello che viene chiamata la cioè l'azione spontanea che attraverso di me si manifesti la volontà non la mia volontà ma una volontà più grande di me ma perché si manifesti questa volontà io ehm eh devo essere eh non desiderante o comunque non devo avere desideri piccoli e neanche positivi o negativi perché se io dico desidero il bene già sto dicendo che il male è cosa negativa invece no c'è una bellezza nel bene c'è una bellezza del male se c'è il male c'è il bene c'è lo sappiamo lo yin e lo yang ognuno è funzionale all'altro in questo eterno cambiamento che è la vita e la vita è perfetta e così come allora non so se mi sono spiegata meglio perfettamente è un tema molto grande che ovviamente ora non possiamo affrontare in pieno ma magari un giorno ci sarà modo eh consiglio però uno probabilmente uno dei libri a cui Lidia faceva riferimento che è un bellissimo libro di Chandra Lidia Kandiani che si chiama Il silenzio e cosa viva contrariamente agli altri non è un libro di poesie ma è un piccolo libro sulla pratica della meditazione bellissimo quindi e riguardo proprio l'ascolto quindi è un consiglio di lettura eh importante che vi faccio molto volentieri abbiamo gli ultimi cinque minuti se proprio c'è un ultimo osservazione o domanda mi fa piacere altrimenti dopo ci salutiamo volevo ringraziarti Marco di questa bellissima cavalcata nel mondo dell'immaginario e del desiderio e anche eh riprendere alcune delle tante cose belle interessanti che hai detto tu e qualche anno fa c'era questa conferenza che avevo fatto che si che aveva il titolo l'anima è maleducata e per me è veramente cioè avrei potuto prendere le stesse cose che hai detto oggi e dirle perché che cosa significava per me quella frase che dava il titolo significava proprio che c'è un diverso tipo di di educazione possibile di movimento interiore possibile che non riguarda non va contro quelle che sono le norme sociali assolutamente le le vive pienamente in libertà ma immagina il mondo e lo crea e mi veniva in mente proprio quello che hai detto tu rispetto a il modello della psicosintesi noi possiamo vivere a molti livelli diversi di coscienza e non dobbiamo mai limitare il nostro immaginario a quello che è possibile adesso ma provare a spingerci in un mondo del possibile e del di quello che sentiamo di di valore maggiore e aiutarci a crearlo mentre parlavi poi mi era venuta in mente una un'immagine la lascio così che il muro di Berlino è caduto all'improvviso perché le persone avevano anche cominciato a immaginare in maniera diversa quella prospettiva di due città in una e una città divisa a metà è abbassato un piccolo piccolo errore di comunicazione no tra tra il bureau e l'altra e l'altra parte e tutti hanno pensato che fosse totalmente normale all'improvviso andare a visitare l'altra parte di Berlino e così è stato cioè tutto quello che aveva creato un muro e due forze due eserciti all'improvviso poiché tutti hanno cominciato a immaginare che fosse possibile improvvisamente e noi ce lo ricordiamo molti di noi c'erano insomma lì non dico proprio al muro ma di vicino ma mi è venuta in mente questa cosa che è molto forte nell'immaginario sociale no dell'Europa che è venuta all'improvviso ti ringrazio tantissimo perché è aria fresca che entra e fa e toglie e toglie il medico di torno via diciamo così grazie grazie io vi saluto vi lascio proprio con i ringraziamenti vi ricordo ancora la data del primo febbraio che sarà l'inizio del nostro percorso di formazione triennale e vi faccio un caro auguro di di buonanotte di buona vita grazie grazie grazie